Alle 7.55 a Piazza Cairoli c'era ancora chi posteggiava in prossimità dei bar per prendere il caffè. Le auto provenienti dalla via Garibaldi venivano autorizzate dal semaforo verde ad immettersi sulla striscia d'asfalto tra il parquet e i negozi. Alle otto in punto il presidente del quarto quartiere Francesco Palanoquero, aiutato da alcuni operai, a posizionare le transenne che chiudono al traffico Piazza Cairoli. L'ultima auto a passare è un'Alfa Romeo Bianca e il primo vagito dell'isola pedonale. I vigili urbani intanto hanno già chiuso l'incrocio tra via Risorgimento e via Dogali. Il presidente della circoscrizione continua a darsi da fare anche con l'aiuto di volontari. Un'altra transenna chiude via dei Mille e un'altra auto di vigili urbani si posiziona per bloccare l'accesso alla piazza ai mezzi che provengono dal viale San Martino, direzione sud. In pochi minuti nasce così l'area pedonale voluta dall'amministrazione del sindaco Renato Accorinti e organizzata dall'assessore alla viabilità Gaetano Cacciola. Ma come spesso accade, quando si avvia un cambiamento radicale non sono mancati gli intoppi. Pochi minuti dopo la chiusura, l'incrocio tra via Tommaso Canizzaro e Piazza Cairoli, la viabilità è andata in tilt perché non ha funzionato il nuovo impianto semaforico. Massimo impegno da parte dei vigili per regolare la viabilità. È stato anche necessario riaprire per un breve periodo Piazza Cairoli facendo registrare così, come falsa partenza, quella delle 8. Messa a posto l'impianto, l'isola pedonale è comunque diventata realtà, mentre qualche messinese, tra i molti che preferiscono criticare senza informarsi, questa mattina chiedeva ancora perché Piazza Cairoli fosse chiusa e cosa stesse succedendo.